I populisti alla prova del governo spesso falliscono sul tema che li ha portati al governo come quello delle migrazioni. Sta accadendo in Polonia col governo coinvolto in uno scandalo per la vendita di visti e in Italia dove la destra al governo ha visto più che raddoppiare gli sbarchi in Italia rispetto all'anno precedente quando c'era il governo Draghi. Invece del blocco navale e il pugno duro ci siamo accorti che la destra non riesce a gestire i flussi migratori, non riesce a trovare accordi con gli altri paesi dell'Unione e fuori dall'Unione non ha una vera strategia per affrontare il problema perché ancora una volta non è con la propaganda che si affrontano i problemi, servono delle politiche serie, serve una strategia europea perché un problema di questo tipo non può essere risolto a livello nazionale ed ecco allora che essere alleati di Orban e Kaczynski e inimicarsi Germania e Francia che sono i paesi che finora hanno garantito il maggior sostegno l'Italia e la maggior solidarietà non sono scelte lungimiranti perché poi portano a un rigidamento di Francia e Germania che sono i paesi che storicamente ci hanno sempre aiutato di più. Una situazione quindi che non fa bene all'interesse nazionale italiano, che non fa bene all'interesse complessivo europeo ma che mostra ancora una volta come con la propaganda non si affrontano i problemi.